Salve, sono Chris Byrne. Benvenuti a The Network. Con i nostri ospiti andremo come sempre al cuore della notizia. E attenzione, avranno al massimo 25 secondi per rispondere. Vediamo subito l'argomento di oggi. L'ondata di risentimento è arrivata fino alle aule parlamentari. Dopo la grande crisi finanziaria, i banchieri sono finiti sul banco degli imputati a causa delle loro remunerazioni da capogiro. La classe politica ha deciso il giro di vite. Per molti è giunto il momento che queste banche, che erano ritenute troppo grandi per fallire, che sono state poi salvate dai contribuenti, stringano la cinghia intorno agli operatori finanziari. Ad essere chiesta è una limitazione dei bonus. In Svizzera, con un recente referendum, si è deciso di fissare un tetto. Un voto visto come una risposta contro gli eccessi che hanno innescato la crisi, pagata da molti con il posto di lavoro. In Europa si levano sempre più voci che richiedono l'applicazione di una tassa sulle transazioni finanziarie per pagare eventuali salvataggi futuri. L'Europa può imporre tali misure senza perdere quote di mercato rispetto ai concorrenti che non sono favorevoli. Quanti di questi banchieri potrebbero fare le valigie e trasferirsi a Singapore. Gli ospiti di questa settimana sono, qui dal Parlamento europeo a Bruxelles, Karel Lannou, direttore generale del Centro per gli studi politici europei. Ancora dal Parlamento, Otmar Karas, vicepresidente del Parlamento europeo e relatore sulle norme che regolano i bonus, membro inoltre del gruppo del Partito Popolare europeo. E dall'ufficio di Euronews a Bruxelles, Guido Ravoè, direttore della Federazione delle Banche europee. Una questione per tutti partendo da Karel. Il piano prevede che i bonus dei banchieri siano limitati a un anno di salario, il che significa che non devono superare il doppio dello stipendio. Un tetto troppo alto o troppo basso? E che impatto potrebbe avere? Karel. Questo tetto per me non è poi tanto fondamentale. Le banche possono adeguare rapidamente gli stipendi dei manager, possono fissarli al rialzo solo per rimanere entro il limite fissato. La cosa importante è questa, non si sta andando al cuore della crisi, ci si è fermati ai sintomi, fino a quando le banche saranno troppo grandi per fallire e continueranno a pagare bonus elevati. Ok, Otmar, come la vedi? Una cosa deve essere chiara. Noi non togliamo i soldi a nessuno. Non stiamo dicendo a nessuno quanto è autorizzato a guadagnare. Dobbiamo essere chiari, non è questo il punto chiave del piano. Ok, Guido, pensa che si sia alzato un polverone con la storia dei bonus bancari? Stabilire la remunerazione credo sia, come prima cosa, compito degli azionisti bancari. Siamo d'accordo sulla necessità di stabilire dei principi come ad esempio le prestazioni a lungo termine in linea con il profilo di rischio di una banca. Credono spetti alla legge entrare nei dettagli. Ma tutto questo cambierà la mentalità da gioco d'azzardo, come l'ha definita Sven Giegold, eurodeputato tedesco e membro della Commissione per i problemi economici e monetari? È d'accordo, Otmar? È la prima volta che si regola il bilanciamento tra la retribuzione fissa e quella variabile. È necessaria maggiore equità tra le banche. È importante per i nostri cittadini. Come si fa a spiegare ai contribuenti europei come mai si pagano questi grandi bonus nel settore bancario quando, allo stesso tempo, il loro denaro è usato per salvare le banche? Carell, pensa che questo cambierà la mentalità da gioco d'azzardo? In modo limitato, perché ci sono molti modi per aggirare le regole. Oltre alle banche ci sono i fondi di investimento che hanno gli stessi comportamenti delle banche. In molti sostengono che se non c'è un accordo generale su questo tetto sui bonus, questi non serviranno a nulla. Che cosa ne pensa, Guido? Questa è una delle nostre più grandi preoccupazioni. L'impatto della legislazione soprattutto sulle compagnie sussidiarie delle banche europee che si trovano fuori dall'Unione. Ci saranno condizioni diverse. Ci sarà un forte svantaggio per le banche locali nell'attrarre talenti. Pensa che sia reale il rischio di un trasferimento a Singapore? Otmar? Per me è del tutto chiaro. Il regolamento europeo per tutte le banche dentro e fuori l'Unione europea deve essere una delle prossime iniziative della Commissione europea. Carell, cosa ne pensa? Ci sarà un accordo generale? Sì, se ci fosse la volontà, ma non credo che ci sia a livello globale. Bisogna inoltre chiedersi se è possibile applicare una cosa del genere fuori dall'Unione europea. L'Europa non può far valere il tetto sullo stipendio, su una succursale o una controllata di un gruppo bancario che lavora in un altro paese. È fuori discussione. Questo è un errore. Non si tratta del livello dello stipendio. Questo dipende dalla competenza, dalla personalità e dal ruolo ricoperto ed estabilito dai proprietari. Si tratta di bilanciare lo stipendio con la remunerazione, che è la parte variabile. Guido, molti banchieri si trasferiranno a Singapore? Alcune attività saranno certamente trasferite, ma il problema è la concorrenza sleale all'interno degli altri centri finanziari, tra le filiali di banche europee e altre banche. Una guerra, come ho detto, per i talenti. È questa la questione chiave. Parliamo ora dell'imposta sulle transazioni finanziarie, anche chiamata Robinhood Tax. Undici stati membri hanno introdotto questa tassa che dovrebbe produrre entrate di 50 miliardi euro l'anno. Pensa davvero che possa produrre una tale cifra? E lei la sostiene? Sì, sono uno dei sostenitori, ma in primo luogo per una regolamentazione globale. In secondo luogo per una regolamentazione europea. In terzo luogo per una regolamentazione nella zona euro. Undici stati membri hanno detto sì in questo momento, ma non bastano. Dobbiamo andare avanti. Carel, cosa ne pensa? Non ha alcun senso. Certamente non ha senso farlo con undici paesi, ma neanche con i 27 dell'Unione Europea, perché sarebbe molto difficile da far rispettare. E se ci fosse un accordo globale? Allora la tassa potremmo farla. In questo caso le conseguenze andrebbero valutate con molta attenzione. Quando la Commissione ha fatto nel 2010 la stima sull'impatto, si è dichiarata contraria. Ora sta cercando di essere a favore. Ho come il sospetto che ci siano dietro delle altre ragioni, tra le quali il fatto che la Commissione voglia prendersi una parte di questa imposta. La European Fund Association sostiene che una tale tassa potrebbe ridurre la propensione al risparmio e i finanziamenti a lungo termine in Europa. Che cosa ne pensa, Guido? Questi fanno parte dell'immagine dell'Europa come centro finanziario. È un danno di immagine? Sì, certo. E sono pienamente d'accordo con Carell. È fuori dalla realtà pensare che gli Stati Uniti possano accettare questa tassa. Otmar, questa tassa resterà lettera morta se non sarà applicata da Stati Uniti e Regno Unito? Dobbiamo discuterne. Ma per noi è molto importante avere più equità. Gli anziani che hanno un conto in banca devono pagare le tasse. È una questione di giustizia introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie. Un'ultima domanda, rapidamente. Pensate che questa tassa e il tetto sui bonus ai banchieri spingeranno ancora di più gli elettori britannici a votare un referendum per uscire dall'Europa? Cosa ne pensa, Carell? Non credo, perché il centro finanziario, la City di Londra, è solo una piccola parte della Gran Bretagna. E nel paese è anche molto diffuso un forte risentimento contro i banchieri, anche se alcune persone sono convinte che la tassa sulle transazioni finanziarie sia priva di logica. Guido, cosa ne pensa? Credo che i britannici siano molto più interessati a rimettere l'economia in carreggiata, e questa è la questione. Ottmar, pensa sia pericoloso e possa far ancora di più indispettire gli elettori britannici? Non credo proprio che questo sia il punto chiave. Il vero nodo è la stabilizzazione del settore bancario europeo, la competitività del settore bancario europeo, e a questo abbiamo lavorato stilando il regolamento bancario europeo. Non posso pensare che singoli questioni possano determinare l'uscita dall'Unione Europea. Il Regno Unito ha diversi tipi di imposte, ma hanno un nome diverso. Ok, Ottmar, grazie. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti, Carell Lanù, Ottmar Caras e Ghido Ravoie. Sono Chris Barnes, alla prossima puntata, grazie per aver seguito The Network.